Allora, beh ragazzi benvenuti in questo nuovo video Dopo veramente tantissimo tempo ragazzi che ho guardato tante di quelle sensibilità e impostazioni di molti pro player Compresi anche il giocatore del mio clan veramente ma veramente forti Sono riuscito a trovare una sensibilità con cui diciamo solo migliorato di tanto Una sensibilità che vi sfido di usarla per vedere se mille reti in pubblica e in creativa Ovviamente dopo vi farò vedere questi comandi, questa nuova sensibilità con cui secondo me diventerete più forti Perché molti chiedete che sensibilità mettere Quindi con il video di oggi ragazzi andremo a vedere la nuova sensibilità che secondo me ho trovato per il gioco di adesso Perché sapete con ogni aggiornamento diciamo va un po' cambiata E quindi andremo a vedere la mia nuova sensibilità con cui diciamo ci ho messo un sacco di tempo a trovarla Ho cambiato anche i comandi nel senso i tasti che ovviamente dopo vi farò vedere Adesso andiamo a invitare un iscritto a caso Andiamo a farci due fight, due o tre fight Guardatemi e ditemi se secondo voi sono migliorato con questa sensibilità E se nel caso lo fossi vi consiglio di metterla E dopo andremo a provare una partita in pubblica Ma attenzione ragazzi, attenzione Prima di cominciare vi raccomando Mettendo il codice RCN-Jaiba supporterete me e Jaiba del mio clan Se mi taggerete in una storia dove avete shoppato con diciamo questo codice Se la vedrò diciamo la riposterò Quindi grazie a tutti quelli che la metteranno e mi sosterranno Io direi che ormai siamo pronti Possiamo iniziare ragazzi, andiamo a vedere qualche fight E poi vi faccio vedere la sensibilità Prima ragazzi guardate i fight e ditemi se secondo voi sono migliorato Allora Chandri, sei pronto per questi 1v1? Ok dai Guarda che io ho messo la nuova sensibilità eh Quindi devi stare pronto ok Sei carico? Ok sì Vai ci siamo Una scala e ci giriamo eh Dai 3, 2, 1 via Andiamo ragazzi andiamo 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 Cala abbiamo aiutato Uh gg regà Non male, non male Ok 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 L'abbiamo hittato Ok lo vediamo Hittato Uh è 18 gg qua Ho imparato una mossa Ok ho imparato una mossa che si può fare solo quando io sono in low ground Che non vi farò vedere in questo video Vi farò vedere nel prossimo video Ma solo se arriviamo a 5000 like ragazzi Ok ha messo la capanna Ragazzi pensavo di hittare ha messo la capanna Ok risale Oh 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 gg Ok va bene Mettiamo la capanna Proviamo a risalire così Mettiamo ovviamente il pavimento qui L'abbiamo hittato Ma perché è bianco? Non si è curato? No è impossibile regà Non si è curato è impossibile Lo si è curato no Allora rifacciamo Rifacciamo questo fight Uh Che botte l'abbiamo tirato qui Che botte l'abbiamo tirato regà Che botte l'abbiamo tirato Ok ora siamo in svantaggio altezza Siamo in svantaggio altezza Risaliamo risaliamo regà Sta un po' overbuildando regà Sta troppo overbuildando qui Devo farlo cadere Se no qui Andiamo più avanti No bro gg gg Secondo te ti faccio una domanda Rispetto ai miei video ultime Sono migliorato? Sì allora visto che ti seguo da parecchio tempo Ok ok adesso senti cosa andremo a fare Questo è un video dove io non te l'ho detto Stavo svelando le mie nuove sensibilità Allora Ok provo intanto a metterle anch'io Le provo di mettere anche te Ok allora ragazzi Le sensibilità che ho trovato sono queste 65x 63y Poi ho messo 29 e mezzo ADS controller Mentre invece il cecchino Vabbè il cecchino raga Devo ancora rivederlo un attimo Ma non ha tutta st'importanza Ho messo 34 Cosa importantissima Ho messo 1,78 Vabbè può essere anche 1,80 Sensibilità building Che è veramente altissima Infatti ragazzi Come io so che molti di voi Anch'io ce l'avevo Ho tolto la mira assistita Quando editiamo Però l'ho rimessa raga E mi trovo Non so raga Io mi trovo meglio Ho messo Ho lasciato l'edit sul triangolo E la conferma sempre sul triangolo Niente raga Questi qua E questi qua sono i miei comandi raga Quindi Provate a metterli Fatemi sapere come vi troverete Io Non so raga Mi sento decisamente migliorato Adesso andrò a provare Una pubblica E andrò a vedere come mi troverò in pubblica ragazzi E ditemi secondo voi Come sarò in pubblica Grazie mille bro Grazie per essere stato qua in creativo con noi oggi Allora ragazzoni Come prima partita con la nuova sensibilità Direi che ce ne andiamo a palmetto Andiamo a palmetto E vediamo Quanto siamo migliorati in pubblica Vediamo come Vediamo come ci troveremo con questa sensibilità in pubblica Perché sapete che la creativa e la pubblica Sono due cose diverse Qui ce n'è uno Distrutto raga L'ho distrutto L'abbiamo distrutto questo Pa 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 Raga il fucile Oh raga Bellissimo il primo headshot Anche se io odio il fucile da fantina Raga come ben sapete è un'arma Allora Secondo me È un Ecco E te pareva che mi spavola da dietro Lo sapevo Lo sapevo Oddio raga Mi ha fatto malissimo Sono senza materiale Le ho fatte solo 60 Ma raga Ma cos'hanno i pompe oggi Beh Ascolta Ma se non hai armi Perché continui a scappare Tanto non sai essere morto Allunghi solo la tua sofferenza Ok Sento gente qua dentro Spero che non si No Non dirmi che si chiude nel bunker Ti prego Eh Invece che mi sa di sì Calma Calma Bibo Ma a me invece sopra Ma raga Ma che sto a dire Ma sta sopra Io ho fatto 11 colpi Raga Meno male che l'ho fatto questo headshot Se non le avessi fatto questo headshot Avrei finito i colpi Sarebbe finita Mamma mia che fortuna Oh La Shieldini per noi Anche perché raga Con questo nuovo aggiornamento Che non dà più gli shield Con le kill Ormai Avere gli shield È una cosa troppo fondamentale Ok Easy kill Lì dovrebbe starci l'altro Stiamo attenti No Cavolo Mi ha preso Ci riscidiamo Lo pusciamo Saliamo 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 Non dobbiamo Eh Cavolo lo sapevo Ci ha preso l'altezza Eh raga Allora facciamo una cosa Facciamo una cosa Nel frattempo Ne era arrivato pure un altro Raga È arrivato pure un altro Dovebbe essere questo Io sono senza pompa Raga Oddio Senza Ok raga Vero male Qua forse la birra si zita Ci ha salvato Però Non l'ho smirato L'ho tenuto bene L'abbiamo Tra virgolette Traccato bene Raga Quindi Non va affatto male Questa sensibilità Sapete che comunque Col pad Senza il pompa È abbastanza complicata La situazione È più facile mirare Da pc In questi casi Cioè scusate Nel senso Da mouse e tastiera No Si sta scildando Ti sento che ti scildi Sei serio? Ma Sei serio bro Io Questo Non lo lascio Questo Non lo lascio andare Raga Fosse l'ultima cosa Che faccio Headshot Doppio headshot Eh ciao Vabbè Doppio headshot Raga Non male Non male Non male Ciao Siamo già 6 kill Secondo partito 6 kill Raga Porca miseria Ma qua mica ci stava Ah infatti Ok ci stava la slurba Perfetto Ok ok Dai 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 Ok ragazzi Siamo in endgame Questo ci pusha 41 No non l'ho più preso No cavolo Sto fu in via Allora Abbastanza complicata qui Nemoli top Ancora No raga E da oggi Guardate E da oggi Che non mi mette le trappole Non me la mette Raga E da oggi Che non mi mette le trappole Non capisco perché Da quando ha messo Il nuovo aggiornamento Raga Non mi mette le trappole Questo mi sa che ci pusha Sì Eccolo Double edit Niente Niente raga Non mi mette le trappole Non lo so Mi dà sempre rosso Anche sui Calma Allora ci scendiamo Niente No raga Non me le mette oggi Non mi mette le trappole Non so perché Vabbè Ok No No Non le mette Questo lo lascio un attimo qua sotto Vorrei shieldarmi No Ok Vabbè Non so se ce la faccio Una moleca di deltaplani Andiamo Riuscirò a shieldarmi Vabbè raga Me lo tiro qua così velocemente Ok Ci sono tirati Lo sento qua dietro Ok Oddio ci sta l'albero Oddio ci sta l'albero Tiene un attimo altezza Ma il falò non riesco a metterlo Eh ma tanto me lo rompe subito Vabbè infatti ve lo sapevo che mi rompeva Vi rishildo Ma scusa ma gli altri dove sono? Perché non spara nessuno? Ok infatti A posto Allora Per amplirci il drop Magari troviamo Una bella slurp Ah ovviamente no Sto arrivando la safe Bibu muoviti Oddio Andiamo qua Partita pure la safe Grazie dell'aiuto bro Vabbè Ci sta questa trappola qua così No raga Ah Peccato Peccato raga Ma cos'è il joystick? Raga comunque non male Non male raga Due partite E Raga Io non so Io ho giocato bene Non ho fatto chissà quanti kill Però raga Secondo me non ho giocato male Non ho giocato per niente male GG ragazzoni GG Allora ragazzi non male Il video di oggi finisce qui Spero che vi sia piaciuto ragazzi Vi raccomando se vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarmi Andate a mettere rcn-jibbe nello shop per supportare non solo me ragazzi Non solo me Anche il mio clan che sono tutti player fortissimi e che ci mettono veramente tanti impegni ragazzi Per migliorare ogni giorno e diciamo avere una buona immagine come player Quindi ragazzi Io potrei fare anche una cosa Sentite cosa farò Se caricherete un video con la mia sensibilità scrivendo Scrivendo nel titolo Metto la nuova sensibilità di Bibo Io probabilmente vi guarderò il video Ve lo commenterò E vi dirò secondo me come siete a giocare ragazzi Quindi direi che per oggi è tutto Vi saluto Mi raccomando ragazzi Come sempre Come ve lo dico sempre Andate bene a scuola Inoltre vi ricordo che se vi foste persi il mio ultimo video Dove mia sorella gioca per la prima volta Che ragazzi vi assicuro che fa straridere Lo troverete ovviamente nel mio canale Ed è il video prima di questo Ragazzi andatelo a vedere perché Filatemi di me Fa veramente troppo ridere Quindi ragazzi Un saluto da Bibo Ci vediamo al prossimo video Alla prossima live Ciao ragazzoni